Buongiorno a tutti e ringrazio Giovanna Aranci e a Francesca Ussani che ci stanno aiutando appunto nell'organizzazione di questo incontro e che fanno parte anche del nostro team insieme a Candida Marti che è qua presente, che sono collaboratori di Wikimedia Italia. Grazie anche ai collaboratori che hanno iniziato adesso poi a lavorare sul progetto, quindi ci sono anche Federico Benvenuti, Luca Martinelli, c'è Valero Iannucci e forse anche Paolo Fichera che non ho visto nell'elenco ed sono le quattro persone che lavoreranno sul progetto e grazie anche a voi che siete qui per sentire un po' com'è questa idea e magari se avete voglia di contribuire, so che alcuni hanno già dato la disponibilità quindi grazie mille ma anche a nuove persone che hanno voglia di unirsi al team, siamo molto contenti. L'obiettivo di questo incontro è fare una presentazione abbastanza generale del progetto volevo un attimo partire da come è nato, quindi raccontarvi anche il progetto Wikipedia Primary School perché alcuni dei risultati magari possono essere utili. È presente anche la mia collega Marta Pucciarelli della SUPSI, noi abbiamo fatto questo progetto in Sudafrica, Wikipedia Primary School tra il 2014 e il 2017 e già tra il 2010 e il 2012 avevamo fatto uno studio di fattibilità con la Fondazione Lettera 27 in cui era coinvolto anche Luca Martinelli, insomma una lunga storia questo progetto. Volevo parlarvene perché tra l'altro alcune delle persone coinvolte già nei progetti precedenti hanno o sono coinvolti come volontari o come collaboratori hanno dato comunque la disponibilità a fare in modo anche che l'esperienza che abbiamo già fatto possa essere anche trasmessa in questo nuovo progetto. Volevo parlarvene perché alcuni dei risultati possono essere utili anche in questa nuova fase. E infine mi soffermerò un attimo sul processo per raccontarvi che cosa abbiamo già iniziato un pochino a fare con il gruppo, qual è l'approccio e poi anche sentire i vostri commenti e vedere in che modo possiamo aggiustarlo, magari incontrarci ancora per discutere delle questioni più specifiche. Vi chiederei la gentilezza anche se avete commenti di postarli nella chat o di alzare la mano. Io faccio magari un po' fatica a seguire quello perché vedendo le slide faccio fatica a vedere poi le vostre icone per cui magari Giovanna e Francesca possono aiutarmi o se qualcuno poi magari mi dice se mi devo fermare o se c'è qualche chiarimento che va aggiunto. Altrimenti inizio a farvi un pochino una panoramica. Sì, Giovanna, la chat la monitoriamo noi, appunto io e Giovanna, in caso mai ti interrompiamo se c'è qualcuno che fa una domanda. Ottimo che così. Benissimo, quindi comincio anche mostrandovi magari qualche slide che aiuta a seguire il discorso. Se poi ci sono altri argomenti di cui volete parlare possiamo farlo magari alla fine della presentazione e non esitate ad interrompermi e possiamo appunto soffermarci su questioni. Allora, questo progetto Wikipedia e la scuola italiana con questo lavoro aggiuntivo di Wikisource è iniziato proprio poche settimane fa e vorrei subito dire che nasce anche un po' da questo momento della Covid-19, nasce comunque dall'attenzione che vorremmo avere adesso per le scuole italiane che ovviamente hanno tante delle difficoltà di non poter accedere ovviamente alle classi e avere magari il beneficio di documentazione online. Ma in realtà il progetto nasce da una domanda abbastanza banale. Qualcuno ha dato un'occhiata a come sono i contenuti legati alle scuole italiane su Wikipedia? Non si potrebbe un attimo verificare come sono messi questi contenuti, questi argomenti. Siamo sicuri che le voci che si studiano a scuola o quelle che sono gli argomenti che si studiano a scuola perché poi Wikipedia può essere un'integrazione magari in altri ambiti ma abbiamo dato un'occhiata a come sono questi contenuti che di solito si studiano a scuola e l'idea proprio del progetto è abbastanza semplice, è quella di accertarci che ci siano questi argomenti della scuola italiana su Wikipedia. Accertarci vuol dire anche ovviamente non soltanto che esistano le voci ma anche che quelli che sono i temi, gli argomenti principali che si studiano a scuola siano documentati, quindi anche proprio i contenuti che siano presenti. L'obiettivo di guardare a come sono questi contenuti nasce dal semplice fatto che Wikipedia è consultata già da tantissime persone. È già uno strumento consultato da studenti, docenti, genitori. è un tipo di risorsa su internet che viene definita un Open Educational Resource perché appunto è una risorsa educativa aperta e già noi come wikipediani, come sostenitori di Wikipedia e dei progetti Wikimedia abbiamo come obiettivo quello di rendere accessibile la somma della conoscenza per cui andare a lavorare, andare a focalizzare la nostra attenzione sui contenuti che vengono spesso trattati a scuola, può essere un ambito tematico, un taglio particolare che diamo ma è perfettamente coerente con quello che già facciamo. Un elemento importante di Wikipedia è che ovviamente appartiene a un ecosistema di siti internet. Wikipedia è legata a tanti altri siti, a tante altre risorse, qua sono citate solo qualcuna. Noi in realtà non lavoreremo su tutte le risorse di Wikipedia, però chiaramente alcuni progetti saranno comunque coinvolti, in particolare Wikisource che è entrato a far parte proprio del progetto anche proprio per un desiderio specifico di Mizar che ci teneva molto perché è sempre stato attivo anche su questo progetto. Quindi faremo attenzione che ci siano contenuti rilevanti per la scuola italiana quindi testi originali che spesso si studiano nelle scuole italiane anche su Wikisource ma anche su progetti vicini al nostro mondo quali sono Internet Archive e LiberLiber. Guarderemo che altre risorse sono presenti che possono arricchire Wikipedia e che possono invece arricchire come progetto Wikiversità che è comunque ben correlato ai temi della scuola e dell'educazione vedere come sono i contenuti e se possono essere migliorati. Va però detto che l'attenzione è centrata su Wikipedia veramente per un motivo di divulgazione di Wikipedia cioè Wikipedia è impressionante come visibilità e come utilizzo e come presenza. Questi chiaramente sono i rating legati alle edizioni in inglese però dà un'idea proprio della portata cioè non tutte le fonti di informazioni sono uguali e il fatto di enfatizzare comunque l'attenzione verso Wikipedia è proprio perché è già usata è proprio perché ha già una grandissima presenza nella vita delle persone. Allora quando si dice accertarsi che su Wikipedia ci siano i principali argomenti trattati nella scuola italiana allora bisogna un attimo capire di che cosa stiamo parlando. Allora ho identificato un quattro punti chiave sui quali poi tornerò per raccontare meglio il progetto e le diverse fasi e che cosa tecnicamente poi vogliamo fare per rispondere appunto a questo obiettivo. Molto rapidamente le quattro fasi sono identificare che cosa vuol dire argomenti trattati nella scuola italiana questo non è un tema così chiaro è un po' ambiguo per cui bisogna un attimo trovare una soluzione che sia condivisa e che sia anche discussa con le persone per arrivare ad un elenco validato. Una seconda fase è quella di collegare questi argomenti che abbiamo identificato con i contenuti di Wikipedia e dei progetti Wikimedia cioè banalmente dire a quale articolo di Wikipedia corrispondono o a quale voce di Wikipedia corrispondono. Un terzo elemento è valutare la qualità di questi contenuti anche per capire che cosa bisogna fare cioè che tipo di interventi potrebbero essere utili per migliorare questi contenuti. E infine intervenire sui contenuti e sugli strumenti disponibili ma anche creare un sistema affinché questi contenuti possano essere monitorati nel tempo e quindi si possa anche intervenire poi in futuro e continuare il lavoro. C'è anche importante da dire quello che non facciamo il progetto non vuole incoraggiare le persone a usare Wikipedia il nostro scopo non è dire che Wikipedia è lo strumento ideale per la didattica dovete usarla il nostro scopo è semplicemente quello di dire siccome le persone già usano Wikipedia verifichiamo che i contenuti ai quali hanno accesso siano il meglio possibile. Un'altra cosa è non è che trasformiamo Wikipedia in uno strumento più adatto alla didattica magari aggiungendo esercizi o facendo fare a Wikipedia cose che non fa che non è la sua natura fare. Infine non è che anche se stiamo studiando e guardando i programmi della scuola primaria non è che vogliamo che il linguaggio di Wikipedia sia adatto alla scuola primaria o alla scuola secondaria di primo grado. Tendenzialmente il linguaggio di Wikipedia è pensato per essere un linguaggio adatto ad un pubblico che è di scuola superiore quindi il linguaggio resterà magari cercheremo di fare attenzione alla chiarezza delle voci perché giustamente devono essere leggibili anche per una persona che ha una formazione da scuola superiore però non è che banalizziamo o semplifichiamo i concetti per trasformarli in uno strumento adatto ai bambini perché quello non può farlo Wikipedia. Volevo anche segnalare che questo progetto non nasce da una dimensione esclusivamente italiana ma nasce da una dimensione internazionale. In realtà quando io ho lanciato questo progetto nel 2010 nasceva da un'esperienza che era stata fatta in Kenya nelle scuole. In pratica era stata portata a Wikipedia nelle scuole, in alcune scuole del Kenya tra l'altro in zone rurali e i ragazzi, i docenti erano entusiasti perché avevano ricevuto Wikipedia offline però lamentavano il fatto che era molto interessante quello che avevano ricevuto ma non c'erano gli argomenti che loro di solito studiano a scuola c'erano gli argomenti che i ragazzi studiano in Gran Bretagna perché la selezione degli articoli e il materiale che era stato caricato veniva essenzialmente dalla Gran Bretagna nessuno si era posto il problema di quali erano i materiali studiati in Kenya. La natura è proprio nata da questa idea del vedere che cosa studiano le persone nel mondo per accertarci che su Wikipedia tutte le cose che vengono studiate nel mondo siano documentate e il motivo per il quale questo può essere utile è perché se noi parliamo della somma di tutta la conoscenza andare a vedere cosa studiano le persone alla scuola elementare, alla scuola primaria è un modo per cominciare a mettere le basi di una conoscenza che è veramente molto più internazionale di quello che spesso Wikipedia è inoltre il progetto è internazionale per la natura stessa di Wikipedia Wikipedia vuole che gli articoli abbiano un taglio internazionale non vuole localismi è un progetto plurilinguistico inoltre è anche un progetto che guarda il mondo anche nelle lingue quindi la nostra Wikipedia in italiano non è la Wikipedia degli italiani è semplicemente una Wikipedia nella lingua italiana per cui la sua attenzione deve essere sempre quella con un respiro internazionale un altro tema che quando si inizia a guardare al mondo diventa molto importante è che se affermare la notability la rilevanza di argomenti di tanti luoghi del mondo è molto complesso nel momento in cui noi citiamo come fonte i programmi della scuola tutto diventa notable cioè è molto più facile nel momento in cui noi abbiamo una fonte che ci fornisce un elenco di contenuti come la scuola rendere questi contenuti automaticamente rilevanti per tutti gli editori per cui in questo processo soprattutto se uno inizia a guardare ai sistemi scolastici dell'Africa e visto che i contenuti su Wikipedia sono molto limitati l'argomento diventa molto più forte molto più facile da negoziare con la comunità e quindi tutti gli argomenti della scuola primaria sono considerati rilevanti e non c'è nessun problema di notability quindi non vengono eliminate le voci inoltre poi la scuola è insegnata in tantissime lingue non soltanto le lingue locali vengono utilizzate le cosiddette lingue locali ma spesso vengono usate anche dei dialetti per insegnare nella scuola elementare la scuola in Sudafrica nel progetto che abbiamo fatto la scuola primaria utilizza 11 lingue è il motivo per il quale Sudafrica è un caso studio così interessante ma la diffusione delle lingue è altissima soprattutto nel sistema della scuola primaria per cui anche quello è un elemento importante per noi che sosteniamo i progetti di Wikipedia in tantissime lingue del mondo un altro elemento che va considerato è che tendenzialmente i contributori di Wikipedia sono abbastanza campanilisti e nazionalisti cioè i progetti che enfatizzano una dimensione nazionalista nel senso buono se vogliamo a volte anche non necessariamente però tendenzialmente funzionano meglio per due motivi il primo perché i contributori tendono a contribuire a di argomenti che sono legati al loro territorio quindi ci tengono al loro territorio può essere ovviamente il loro paese ma anche proprio la loro nazione il secondo aspetto è quello legato comunque alle fonti nel momento in cui noi guardiamo un sistema nazionale che può essere l'elenco dei monumenti nazionali o i monumenti che sono riconosciuti oppure i libri di testo di sistemi scolastici nazionali o appunto gli esami in quel momento abbiamo comunque delle fonti che sono delle fonti ufficiali e ci aiutano molto a produrre contributi legati a Wikipedia che sono piuttosto funzionanti si è visto in particolare col progetto Wikileaks Monument che è stato un esempio veramente molto significativo per tutta la comunità tra l'altro il progetto Wikileaks Monument con una scalabilità nazionale è stato in assoluto la prima e più grande collaborazione tra tutti i capitoli del mondo per cui anche in questo molto nuovo e molto significativo l'altro tema sempre è la forza comunque dei contenuti legati allo stampo nazionale anche questo emerge poi in come è strutturata Wikipedia e in cosa manca un'ultima cosa che volevo menzionare legato a questa dimensione internazionale del progetto è che la scuola di tutto il mondo cioè la stragrande maggioranza delle scuole non sono come la scuola italiana non sono come le scuole europee o statunitensi cioè il sistema scolastico nostro è una minoranza rispetto al resto del mondo nel mondo la scuola primaria e soprattutto la scuola che ti permette poi di poter prendere la patente che vuol dire tantissime professioni è un esame che va sostenuto per cui di solito i contenuti non sono come nel nostro caso basati su competenze ma sono basati veramente sulla capacità poi di arrivare in fondo alla scuola primaria e fare questo esame e passarlo e infine un altro elemento importante è il fatto che non sono solo bambini che fanno la scuola primaria noi associamo sempre a questa immagine di bambini la scuola primaria cosa che non è assolutamente quindi volevo accennare a questa dimensione internazionale perché il progetto che abbiamo fatto e lanciato a partire poi dal 2010 aveva questo respiro e secondo me è importante che anche quello che facciamo a livello italiano partecipi anche a un po' di questa dimensione internazionale proprio perché come dicevo prima la nostra natura come wikipedia anche in italiano non è una natura nazionale ma è una natura sempre con respiro internazionale volevo adesso mostrarvi un po' i risultati del progetto wikipedia primary school molto rapidamente per darvi un po' un excursus di quello che è stato il materiale allora il progetto è un progetto universitario considerate che adesso con il progetto che stiamo facendo in Italia stiamo un po' replicando la stessa struttura con la differenza che questo progetto che abbiamo fatto con l'università era un progetto da circa 300 mila euro che è durato tre anni e che era in collaborazione con l'università di Cape Town con Tobias Sean Vetter che era uno dei co-coordinatori di Creative Commons Africa per cui era un progetto con un altro respiro con dei tempi molto più lunghi con anche un comfort che noi ovviamente non abbiamo in questo progetto molto specifico sull'Italia però è un progetto che aveva anche come obiettivo quello di studiare dei metodi anche per capire che cosa funziona e che cosa non funziona e che cosa potrebbe essere facilitare poi un processo di lavoro simile per le nazioni e quello che abbiamo fatto è stato focalizzare la nostra attenzione su in realtà 100 articoli poi sono diventati di più abbiamo lavorato sull'identificazione di 100 voci di Wikipedia correlate al sistema del scolastico al curriculum scolastico sudafricano della scuola primaria e poi abbiamo fatto dopo aver identificato le voci che è stato uno dei lavori che ha fatto Erika Li30 insieme a Luca Butturi un collega che è un educational designer abbiamo fatto delle valutazioni una delle valutazioni è stata una valutazione usando appunto il quality assessment quindi la valutazione della qualità che già Wikipedia utilizza un altro sistema è stato quello di coinvolgere degli esperti nella valutazione e questa è un'esperienza che potremmo in qualche modo ripetere anche per la versione italiana di questo progetto abbiamo coinvolto infatti degli esperti circa un terzo a risposto ma è stato molto interessante il risultato in pratica noi abbiamo chiesto soprattutto dei docenti universitari e gli insegnanti si sono rivelati più bravi di tutto tra l'altro è Marta Pucciarelli che oggi c'è che si è occupata proprio dei contatti con i docenti noi abbiamo coinvolto questi docenti per fare delle review quindi delle valutazioni qualitative su degli articoli e alcuni di loro hanno veramente fatto un lavoro di analisi e di suggerimento di miglioramenti degli articoli molto interessante e l'abbiamo fatto all'esterno di Wikipedia cioè loro ricevevano un pdf valutavano questo documento aggiungendo integrando facendo commenti come se fosse stato il compito a casa di un loro studente e si è rivelata un'operazione molto importante e molto utile poi per i contributori di Wikipedia perché quando l'esperto interveniva su Wikipedia invece funzionava molto male il processo la review è stata poi caricata nella talk page quindi nella pagina di discussione degli articoli è stata utilizzata poi per migliorare le voci per esempio questa tecnica può essere molto utile soprattutto per dei temi controversi per esempio voci legate alla storia contemporanea alla storia del fascismo a certi temi che si sa storicamente sono complicati su Wikipedia abbiamo usato diverse tecniche poi per migliorare le voci e anche per migliorare gli articoli e in astrutto le cose che hanno funzionato meglio sono stati sia queste review di esperti in cui ci sono stati proprio delle raccomandazioni molto significative sia quello di indirezzarci alla comunità di wikipediani la realtà è che chi contribuisce meglio direttamente su Wikipedia sono le persone che sanno farlo portare un esperto o una persona che ha grandi competenze su Wikipedia è molto più complicato questo è quello che è emerso ed emerge da parecchi studi infine l'altra cosa interessante di tutto il lavoro che abbiamo fatto sulle voci del Sudafrica è tutto un lavoro di monitoraggio che è stato fatto con sistemi diciamo semi automatici con visualizzazioni e di analisi dei temi per esempio questo sono strumenti che abbiamo utilizzato per guardare le voci e vedere in che modo queste voci erano visualizzate con che frequenza abbiamo utilizzato altre visualizzazioni per vedere per quanto tempo venivano creati dei contributi per esempio una caratteristica tipica delle voci di Wikipedia e che vengono create per un periodo vengono modificate e poi più niente quindi molto spesso non sono aggiornate questo è anche un elemento che appare molto spesso anche nella valutazione di Wikipedia nelle ricerche sui progetti però è interessante perché aiuta anche a capire quali sono voci magari che hanno bisogno di interventi prima di altre per cui anche capire quali sono le priorità su certe voci rispetto ad altre altri tipi di analisi sono il tipo di collegamenti che hanno queste voci cioè quanto sono fitte le loro retti di collegamenti e anche quindi anche quali sono gli elementi strutturali di queste voci per esempio la frequenza scusate la presenza di citazioni questa è una questa in particolare dà un'idea del tipo di contributi poi sono tutte immagini che trovate tutte dettagliate in alta risoluzione su wikimedia commons però per esempio la presenza di site notice cioè di avvisi nella voce la presenza di bibliografia di note a piedipagine quanto sono ricche di link oppure quanto sono povere la dimensione delle voci cioè sono tutte diciamo sistemi di analisi delle voci che possono essere automatizzate nel momento in cui si raggruppano delle voci altri in questo caso per esempio avevamo confrontato gli effetti diciamo del nostro intervento prima e dopo quindi vedendo quante immagini erano state aggiunte quante note e quanti elementi un'altra cosa che secondo me è molto interessante delle visualizzazioni è proprio la possibilità di vedere come sono questi contenuti cioè wikipedia offre effettivamente la possibilità di visualizzare il sapere in questo caso avevamo visualizzato in che modo si presentavano le voci all'inizio del progetto poi abbiamo visualizzato in che modo si sono trasformate nel tempo in particolare arricchendosi di link crescendo e quindi evolvendo e quindi abbiamo potuto confrontare in qualche modo creare una rappresentazione di quello che è stata l'evoluzione comunque del nostro intervento ed è una cosa abbastanza impossibile da fare se uno ci pensa la visualizzazione del sapere e questo è invece un tema interessante da esplorare su wikipedia infine poi il lavoro di visualizzazione è un lavoro che caratterizza molto la mia università il nostro lavoro per cui abbiamo fatto poi delle visualizzazioni collaborando con Ilario Valdelli e Wikimedia a Svizzera per questo progetto di Glam Visual Tool ci siamo occupati noi dell'ideazione poi degli strumenti che tra l'altro poi le visualizzazioni possono essere anche utili a guidare il lavoro dei contributori il tipo di interventi anche ovviamente a creare dei messaggi ecco questo era per darvi un'idea del progetto in Sudafrica per le fasi del progetto invece in Italia il progetto appunto è un progetto molto più piccolo che vorremmo fare più velocemente possibile per arrivare comunque ad avere dei risultati tangibili e anche un'identificazione di questi contenuti rapida per poter poi vedere anche com'è la situazione fare una fotografia dello stato di Wikipedia rispetto agli argomenti scolastici del sistema italiano e abbiamo un team di lavoro infatti ringrazio tutte le persone che già hanno mandato testi hanno mandato materiali e hanno dato disponibilità a dare una mano è un progetto che è sostenuto da Wikimedia Italia sia con un sostegno finanziario che con il coinvolgimento dei collaboratori dell'associazione a me sembra che sia molto importante questa cosa che sia fatta da Wikimedia Italia perché appunto essendo l'istituzione che rappresenta i progetti in Italia è bello che intervenga comunque con un ruolo istituzionale in fondo i volontari di Wikipedia il bello di essere dei volontari su Wikipedia è fare quello che si vuole uno può scrivere dei Pokemon delle serie televisive dei suoi giochi preferiti non è che deve occuparsi degli articoli della scuola e non è male avere un'istituzione invece un po' esterna che dice ogni tanto aspetta un attimo vediamo come sono invece questa parte qua l'abbiamo finita questa e poi magari chiama a raccolta le energie per sistemare cose che magari nell'evolversi naturale dei progetti non necessariamente andrebbero in quella direzione allora il processo del progetto riprende un po' gli argomenti scusate è un po' piccolo il font per cui comunque rientro poi nei pezzetti però queste quattro fasi sono quelle di cui prima parlavo quindi una prima fase di identificazione degli argomenti trattati nella scuola italiana una seconda fase in cui si collegano questi argomenti ai contenuti di Wikipedia e dei progetti di Wikimedia una parte di valutazione ma anche di creazione di indicazioni su come migliorare i contenuti e infine una parte legata al miglioramento dei contenuti allora per quanto riguarda l'identificazione degli argomenti il vero problema di questo task di questa attività è il fatto che non esistono veramente degli argomenti di un curriculum italiano ci sono delle indicazioni date dal ministero legate essenzialmente alle competenze da acquisire e poi ci sono i libri di testo noi abbiamo deciso di guardare i libri di testo semplicemente perché da wikipediani noi guardiamo le fonti e i libri di testo sono una fonte per cui partire dalle fonti ci sembrava il modo più efficace ma l'idea comunque per riuscire ad arrivare ad una validazione e comunque ad una anche apertura di questi contenuti l'idea è quella di coinvolgere docenti studenti persone chiedendo quali sono gli argomenti che può essere utile avere su wikipedia rispetto alle necessità della scuola avevamo fatto questa operazione anche in sud africa per esempio alcune delle cose che ci sono state chieste dai docenti erano articoli per esempio sul cyberbullismo oppure sulla noressia e la bulimia cioè alcuni docenti chiedevano appunto quei contenuti che non ci sono nei libri di testo ma di cui trovavano che fosse utile avere un riferimento anche online facilmente accessibile quindi la discussione è un modo comunque per creare comunque un canale di comunicazione la possibilità di rinegoziare questi elenchi che al momento basiamo su dei libri di testo che la fanno spesso anche da padrona nelle classi ma comunque creando comunque uno spazio di apertura quindi anche di dialogo nell'identificazione degli argomenti uno dei temi è anche la questione delle materie anche sul suggerimento di Giovanna Aranci abbiamo un po' discusso di quali possono essere le materie dalle quali partire e uno dei criteri e questo è un argomento l'ho segnalato come bozza perché potrebbe essere appunto anche un argomento di discussione sulla quale un po' coinvolgervi e sentire anche la vostra opinione però l'idea era quella di cercare di segnalare soprattutto materie che sono più trasversali possibili cioè che sono presenti in più scuole e poi un altro elemento era quello di dare attenzione comunque alle materie STEM che sono scienza, tecnologie, ingegneria e matematica scusate l'abbreviazione anglofona perché insomma queste materie al momento c'è molta attenzione su queste materie e un altro tema ovviamente per noi importante è quello di Vicky Source e delle fonti originali per cui la letteratura italiana soprattutto la letteratura che si focalizza su autori che ormai sono i cui testi sono ormai in pubblico dominio è un'attenzione particolare alla quale dedicheremo tempo per ora quindi abbiamo fatto un elenco non è completissimo poi lo trovate online ho messo il link identificando quelli che sono da fare una secondo gruppo da fare terminati i primi e infine se possibile se riusciamo più ovviamente abbiamo anche coinvolgimento di volontari di altre persone più si può aprire anche questa attenzione pluridisciplinare ed è interessante vedere in realtà tutti quelli che sono i temi non convergenti in realtà è anche molto più interessante vedere quanto poco quanto poca attenzione spesso noi abbiamo per tutte quelle materie tecniche di tecnologia di istituti tecnici forse anche perché magari tra noi wikipediani non sono così numerose le persone che hanno fatto quel tipo di scuole per cui a volte secondo me anche i contenuti di wikipedia rispecchiano comunque anche alcune mancanze poi è chiaro che chi studia agraria chi studia ingegneria magari contribuisce su quelle aree però insomma un'attenzione anche a quelle che sono materie divergenti può essere utile e interessante per arricchire in modo significativo wikipedia il secondo passaggio è quello di collegare questi argomenti a voci di wikipedia e altri progetti ho messo qui una scheda che ha iniziato a preparare Valerio Iannucci sulla grammatica italiana in pratica per ora stiamo lavorando appunto su degli elenchi identificando dei macro temi che sono poi i grossi capitoli dei libri entrando più nei dettagli degli argomenti specifici verificando l'esistenza di pagine su wikipedia o più pagine ed eventuali risorse collegate quindi su wikimedia commons l'identificativo di wikidata l'eventuale lezione disponibile su wikiversità termini che sono disponibili sul wikizionario articoli su wikidia e così via quindi iniziando a fare una fotografia di quelli che sono i materiali per poi successivamente anche segnalarli all'interno di categorie nascoste nella pagina di discussione in modo tale da poter in qualche modo avere questi termini questi contenuti collegati cosa che ci permetterà poi di monitorarli di segnalarli di studiarli anche in modi diverse la terza fase è quella della valutazione della qualità dei contenuti e abbiamo iniziato io ho iniziato a buttare giù qualche appunto infatti scusate adesso vedo anche gli errori rifusi però appunto provando a identificare dei criteri di valutazione anche in questo caso il dialogo e la conversazione sia con voi sia con gruppi di docenti insomma fare in modo che questi criteri di valutazione si arricchiscano e si considerino anche quelle che sono e possono essere le esigenze e capire in che modo possono essere integrate ecco insomma questi criteri di valutazione sono un altro spazio importante e interessante per vedere in che direzione possiamo rendere Wikipedia appunto più accessibile o comunque strutturate in un modo più funzionale per gli utenti a partire da questa idea del criterio di valutazione Federico Benvenuti ha lavorato già su una prima verifica di alcuni contenuti ha guardato al tema dell'educazione civica ha preso un po' delle voci e ha iniziato a fare una prima descrizione che è molto utile per cominciare a vedere quali sono temi un po' partire da un esempio concreto quindi non inventarci dei criteri a priori ma veramente partire dalle esperienze e una cosa che è emersa da questo lavoro è provare a fare un esercizio un pochino diverso per la valutazione qui ho messo un esempio delle voci che aveva guardato però invece di focalizzarci su valutare le voci focalizzarci su fornire delle indicazioni su come migliorare queste voci invece invece di dire manca l'incipit suggerire di arricchire l'incipit oppure quando un articolo si focalizza su la nazione Italia senza però indicarlo in modo adeguato quell'articolo vuol dire che ha bisogno di essere internazionalizzato cioè bisogna fare in modo che l'articolo non rispecchi soltanto la situazione in Italia ma sia aperto al mondo oppure specifici renda specifico il fatto che quell'articolo si focalizza solo su Italia quindi questo tema dell'internazionalizzazione che emerge spesso in realtà negli articoli oppure la necessità di aggiungere dei paragrafi oppure quello di accorciarli o di scorporarli magari in sottovoci quello di rendere più caro il linguaggio il fatto di cominciare a dividere il tipo di operazione da fare abbiamo pensato possa essere d'aiuto anche lo so mancano delle immagini mancano delle figure questo rendere più chiaro che cosa bisogna fare aiuta poi magari a facilitare l'intervento di persone che hanno competenze diverse che hanno anche interessi o modi di lavorare su Wikipedia diversi infine come menzionavo questa la questione di valutazione dell'articolo merita comunque di essere discusso cioè cosa vuol dire migliorare una voce che cosa studenti e docenti già usano che cosa manca il confronto è comunque una cosa interessante per il progetto sul Sudafrica aveva seguito questo lavoro Luca Botturi che appunto si occupa di sistemi educativi e aveva fatto un questionario per i docenti anche per vedere un po' in che modo si relazionano con Wikipedia e magari questa operazione potremmo replicarla tra l'altro Luca ha dato la disponibilità per dare una mano e può essere una cosa insomma che si può integrare appunto guardare una voce è diverso a seconda di quali sono i propri scopi io sono una mamma di un ragazzino di quinta elementare che in realtà era il rombo che non mi ricordavo più bene però porto l'esempio del triangolo perché è molto chiaro se voi guardate la voce sul triangolo è una voce molto sobria molto schematica ma in cui hai la sensazione che non ti dicano le cose essenziali di un triangolo o che per trovarle devi fare parecchia fatica magari un incipit quindi la parte iniziale introduttiva della voce più ricco che ti dà già delle informazioni banalmente l'area del triangolo cioè trovare rapidamente quel base per altezza diviso 2 che ci è familiare magari con una formula che ha un'area diversa che ha un'area più vicina a noi potrebbe essere per esempio un intervento possibile bisogna ovviamente come tutti gli interventi valutarlo discuterne e vedere se appunto integrare un template senotico o trovare una soluzione però per rendere questa voce più funzionale e il più funzionale è chiaro che dipende da ciascuno di noi dalle sue esigenze da che tipo di lettori siamo e contemplare però che in questo periodo ci sono anche molti studenti e magari Wikipedia può rispondere alle loro esigenze in modo più più rapido più funzionale è un ci sembra un tema importante da portare all'attenzione infine l'ultimo punto è quello di migliorare i contenuti allora riprendevo appunto questo elenco degli interventi il tema delle modifiche noi non potremo nel corso di questo progetto fare tutto però iniziare a segnalare le voci indicare delle priorità segnalarle comunicare il progetto magari anche all'interno di attività che già facciamo con gli studenti o con le scuole possono essere delle strade e quindi magari anche arrivare a creare delle visualizzazioni potrebbe essere una cosa interessante anche quella infine per concludere abbiamo creato un gruppo telegram dove aperto un gruppo pubblico se volete unirvi come gruppo di lavoro potete aggiungervi senza nessun limite abbiamo la descrizione del progetto su meta infine c'è una pagina su wikipedia italiano che avevo avviato e che può magari essere utile ecco questa per avere una presentazione adesso magari ci sono domande o temi o se so che molti di voi hanno comunque esperienza specifica e specialistica nella scuola critiche discussioni insomma a voi la parola io sono Michele sono Michi 83 per chi mi conosce su wikipedia ho già parlato con Yolanda in privato perché io sono oltre ad essere utente di wikipedia sono un maestro di scala in area quindi mi interessa molto questo progetto complimenti per la presentazione perché avevo vari dubbi che sono stati tutti più o meno chiariti perché è stata completa mi è piaciuto anche il riferimento che hai fatto specifico al triangolo perché è capitato anche a me io raramente consulto wikipedia per cose di scuola proprio perché secondo me almeno per la scuola primaria è troppo ricco wikipedia per quello che ci può servire però ho avuto anche dei dubbi sulla geometria se tanto anche io a vedere dei contenuti ho visto che c'è da da ragionarci su perché non è immediato l'uso quindi magari vabbè ne parleremo un'idea che mi è venuta siccome si parlava anche tra i vari criteri su cui lavorare gli incipit secondo me anche se uno degli obiettivi non è abbiamo detto rendere più fruibile per i bambini però se lavoriamo molto sugli incipit in cui abbiamo proprio le informazioni essenziali sulla voce secondo me è una strada da percorrere perché penso anche a wikipedia in inglese che ha questa impostazione che non so se deriva da linee guida o da una consuetudine per cui spesso c'è proprio un riassunto di tutta la voce e poi le varie sezioni che ampiano di vari aspetti però è una cosa che in italiano non tanto si fa però magari per questi contenuti particolari dedicati alla scuola si può fare poi voglio capire poi man mano vabbè parli di me in privato nei gruppi telegram mi sono appena iscritto come posso collaborare come impostate come state lavorando o come impostare in genere il lavoro per ora è tutto grazie grazie mille sì ma penso che anche identificando anche un po' delle priorità magari si può non fare su tutto subito però magari identificare quelli che sono i contenuti comunque già affrontati all'elementare alle medie poi di nuovo alla scuola superiore magari cominciare da quelli guardando anche un po' come può essere migliorato l'incipit ne parlavamo anche con Federico magari tu sai anche dare delle indicazioni più precise per la qualità delle voci però può essere uno spazio sicuramente da ampliare da potenziare anche relativamente semplice come intervento già contemplato dalle voci quindi non andiamo a intervenire in modo troppo insomma troppo fastidioso ma piuttosto completo è anche vero che prego già che sono questo che mi hai chiamato no aggiungo che è vero che molte voci di Wikipedia hanno incipit molto corti ma questo era il modo di scrivere le voci fino a poco tempo fa adesso guardando anche quelle che entrano in vetrina si cerca sempre di più di avere un incipit di tre a volte anche quattro paragrafi che riassuma più il possibile tutta la voce perciò confermo che l'indirizzo è verso quello poi chiaramente abbiamo molte voci che sono un po' vecchie come idea però l'idea è proprio fare un incipit che sia come dicevano prima ecco grazie è anche vero che le voci più difficili che abbiamo visto anche nella review cioè ha senso coinvolgere gli esperti più le voci sono ampie e generali le voci generali sono delle voci sempre molto difficili perché chiaramente richiedono anche una competenza insomma molto ricca per arrivare in realtà ad una sintesi io ne avevo parlato con il responsabile il direttore della Treccani raccontava che per le voci della loro enciclopedia quello che fanno è commissionano ad una persona molto brava e competente ma che non è il massimo esperto perché dicono che il massimo esperto tende a parlare solo della sua ricerca sostanzialmente cioè solo il suo taglio invece ci vuole una persona che ha attenzione anche per i punti di vista di tutti e poi coinvolgono almeno cinque reviewer cinque persone che aggiustano e riequilibrano la voce però appunto è un processo molto complicato e poi soprattutto su certe voci che sono già molto magari problematiche anche su Wikipedia non è un processo semplice ok c'è Candida che voleva parlare Supercilum e poi Matteo Ruffoni magari teniamo domande no io no non avevo domande hai alzato la mano senza accorgertene va benissimo allora direi Supercilum Matteo Ruffoni e poi Marta va bene? sì no ora mi ricollegavo alla questione dell'incipit che al di là delle dimensioni quindi della lunghezza di righe paragrafi eccetera era proprio la difficoltà del linguaggio secondo me uno dei problemi in alcuni ambiti chiaramente non in tutti mi ricordo che ci sono state discussioni molto accese in campo medico ad esempio perché gli utenti di medicina che erano utenti molto esperti qui proprio mi ricollego a quello che ha detto Yolanda adesso che uno molto molto esperto tende a vedere le cose da un punto di vista molto rigoroso formale purista eccetera magari e loro dicono no no il sangue bisogna queste voci bisogna definirle già subito nel modo più rigoroso possibile e invece altri dicono guardate magari nell'incipit lo possiamo descrivere in una maniera un pochino più semplice cosa almeno uno capisce subito anche se non è esperto di cosa sta parlando e poi in tutto il testo in tutto il corpo della voce se uno si vuole diciamo dilungare su aspetti più dettagliati e rigorosi allora lo può fare mi ricordo c'era stato l'esempio del sangue fino a un po' di tempo fa l'incipit della voce del sangue era assurda in italiano era il sangue è un tessuto connettivale un fluo dello stato di aggregazione liquido e da comportamento non newtoniano allora uno cosa capisce da una frase del genere è tutto ricorosamente corretto ma allora a questo punto l'approccio di Wikipedia inglese è sicuramente più condivisibile da parte mia che dice il sangue è un fluido corporeo negli umani e negli altri animali che trasporta le sostanze necessarie come nutrienti l'ossigeno le cellule eccetera quindi già questo per un non esperto è assolutamente comprensibile e l'altra cosa quando ho visto magari ci sta bene un sinottico qua eccetera comincio già a dire che quando si vanno a toccare le convenzioni diventa un campo minato nella comunità di Wikipedia e Yolanda lo sa bene quindi prestare la massima attenzione su queste cose mi permetto di saltare un attimo la fila giusto per garantire a Francisco che cioè essendo quasi tutti wikipediani lo sappiamo prima di tutti gli altri che le convenzioni non vanno toccate però appunto voglio il template no no non che non vanno a toccare il suggerimento secondo me ci stava tutto qui lascio la parola a Marta che stava prima di me ma si può toccare tutto per carità dico solo che sapendo che la comunità di Wikipedia è molto restia diciamo molto cristallizzata su queste cose sapere che è molto insomma molto complicato è evidente che sono molto contento di questo progetto l'ho dimostrato ponendoci d'attenzione possibile anche in qualità di nuovo presidente di questa fantastica associazione che è Wikimedia e mi è altrettanto evidente che con Paolo che è qui anche lui è qualche anno che lavoriamo intorno a questa faccenda perché forse i wikipediani non sono al corrente di questa cosa nelle scuole noi viviamo vediamo l'altra parte l'uscita del tubo non l'entrata e l'uscita del tubo è correggere dalle maestre a tutti gli insegnanti una valanga di ricerche che sono copia e incolla delle pagine di wikipedia e guardando la pagina triangolo ma se volete potete andare a vedere quella di minimo comune e multiplo io insegno matematica geometria scuola e media è evidente che arrivano da lì il linguaggio non è quello dei bambini i bambini non capiscono mai cosa c'è scritto copiano e incollano e come dicono i miei studenti più intelligenti poi prof tolgo un po' di punti un po' di virgole magari i verbi la H davanti al verbo avere e tu non ti accorgi che io l'ho copiato questo è il meccanismo che va per la maggiore se sei un insegnante onesto ma guardate non vi garantisco che gli insegnanti siano onesti intellettualmente ti rompi le scatole cerchi di risolvere questo problema se no prendi le ricerche e le metti via noi per risolvere non per risolvere per proporre una possibile soluzione a questa cosa ci siamo interessati da qualche anno a Cikipedia che è il progetto basco in cui c'è questa un'amp space della pagina di scritta per bambini e in italiano viene il nostro nome tutelare diciamo l'entrata nel mondo wikibediano è Valdelli è Lilario che avete citato prima e spero di non rivelare niente di strano nel senso che mi sembrano tutte persone che più o meno sono del mondo wiki e questa cosa comunque sicuramente si affianca a questo progetto qua nel senso che è una delle possibili cose che si può fare notavo tra l'altro per esempio che ad esempio la pagina triangolo che hai fatto vedere una bella soluzione sarebbe semplicemente riordinare gli argomenti riordinare le spiegazioni nel senso lì partiva difficile poi c'erano dentro spiegazioni comprensibili anche a un bambino bastava mettere in cima quelle spiegazioni magari spiegare con una breve circolocuzione la formula dell'area e quindi capisco che una volta condotto lo studio che è molto importante ritengo poi speriamo speriamo ci sia la forza nella comunità di arrivare anche a cominciare a fare questi piccoli aggiustamenti senza magari arrivare ad avere la pagina minipedia subito anche se a me piacerebbe molto perché poi in alcune materie ritengo sia importante però va bene e credo che non sarà difficile e sicuramente è una cosa da fare questo studio per mettere a fuoco questa cosa concludevo dicendo se abbiamo bisogno di coinvolgere molti insegnanti in alcune fasi cercando di andare a prendere suggerimenti ricordiamoci che abbiamo community come insegnanti 2.0 su facebook tra le varie che ha dentro 38.000 insegnanti questa cosa proponendo lì un bel questionario potrebbe portare a raccogliere dati forse diciamo che sul campione sono ragionevolmente significativi non aspettiamoci poi gli insegnanti sono furbetti come bambini nel senso che siccome siamo tutti studiati gli insegnanti sono tutti studiati poi mentono ecco bravi mentono sapendo di mentire voi vedete quello che sta succedendo in questi giorni con la didattica a distanza chiunque ha ha anche una mamma vede anche lei l'uscita del tubo e quindi capisce che non è tutto come stiamo raccontandoci che sia e quindi speriamo c'è questa passione per le video elezioni ma vabbè questo esco dal seminario di tantissimo speriamo di stare nel seminato grazie però perché grazie per questa attenzione alla scuola primaria perché era una cosa che sicuramente serve scuola primaria e scuola secondaria sappiate ecco permettetemi di dire che nella mia opinione un ragazzino sceglie se wikipedia gli piacerà o se wikipedia non gli piacerà e se parteciperà alla costruzione del suo sapere che è una competenza di cittadinanza primaria per il futuro tra i 13 e i 15 anni diventa un cavolone oppure diventa uno che comunque magari scriverà solo due cretinate ma l'età chiave è questa tra la seconda e la seconda media e la seconda liceo dopodiché o sono persi o sono guadagnati alla causa avete un esempio dentro la community gigante come Ferdinando quindi io volevo dire una cosa riguardo il coinvolgimento degli esperti e ti ringrazio per aver anticipato l'esistenza di questa community perché lavorando con lavorando nel progetto sul Sudafrica io mi ero occupata appunto di trovare questi esperti ed era ed è stata una ricerca un po' per conoscenze o un po' una ricerca vera e propria su Google Scholar cercando di definire quali erano i 4-5 maggiori esperti su Nelson Mandela per esempio che potevano fare una review però avevo visto che una cosa che funzionava anche molto bene era andare era scovare queste persone all'interno di conferenze conferenze di africanisti e all'interno anche perché era un modo per valorizzare un po' quello che facevano e quindi la mia domanda a cui praticamente in parte hai già risposto è ci sono delle community o dei gruppi o delle conferenze o dei symposium di professori magari di italiano che si possono raggiungere in questa maniera in modo tale che tu invece di trovare un esperto ne trovi un gruppetto e poi vedi chi è disposto a fare la review perché appunto concordo con Giolanda che coinvolgere un esperto da fuori è molto più semplice che convincere un professore poi a giornare o a scrivere o a migliorare una pagina di Wikipedia questa è la mia domanda secondo me bisogna riflettere anche su questa cosa qui ma comunque questa community di professori me la sono segnata di insegnanti me la sono segnata e sì potremmo sicuramente diffondere il progetto anche aggiungo una cosa sì di quella cosa si può essere comuni allora noi come Vittimi d'Italia abbiamo dei docenti con cui siamo in contatto diciamo degli indirizzi dei nomi personali che potremmo sicuramente coinvolgere non sono tantissimi non sono certo 38 mila ma partecipiamo anche a delle volte dei convegni in particolare dei nostri soci alcuni sono diciamo anche abbastanza richiesti nel mondo della scuola delle volte anche delle biblioteche scolastiche per cui sicuramente una volta se abbiamo messo a punto quello che può essere un questionario o due fasi o vogliamo fare dei focus group coordiniamoci per trovare tutti i canali possibili dai social agli indirizzari ad esempio un convegno a cui noi partecipiamo come Vittime d'Italia che è Stelline Scuola cioè a parallelo al convegno più importante delle biblioteche a livello nazionale che è il convegno delle Stelline è il secondo anno che c'è questo convegno Stelline Scuola comunque con un certo centinaio di docenti e con anche legami con le università che lavorano nelle scuole per cui sicuramente possiamo diciamo intercettare dei più canali possibili Allora mi chiamo Stefano e non sono un utente molto attivo su Wikipedia in italiano però credo molto nel sapere libero a Yolanda ho anticipato in una mail un po' il lavoro che sto svolgendo da due anni a questa parte il discorso sul coinvolgimento degli esperti mi sembra molto interessante così come molto interessante è tutto il progetto che finalmente secondo me permette permetterà spero di incontrare la scuola italiana dopo i tanti tentativi che sono stati fatti incontrarla in una maniera più potremmo dire più consapevole perché finora vediamo che gli studenti io sono insegnante non lo avevo precisato insegno in un istituto professionale per i servizi sociosanitari nella provincia di Fermo io insegno psicologia provenendo da una formazione in filosofia allora vi posso raccontare in breve in tre minuti la mia esperienza quindi primo punto il progetto è validissimo e secondo me incontra la scuola permetterebbe di incontrare la scuola italiana e anche di promuovere quella cittadinanza attiva favorendo la costruzione del sapere vi voglio raccontare anche una mia esperienza legata a un progetto di sito in cui io volevo aggregare delle voci riferite agli argomenti che vengono trattati a scuola parlando di servizi sociosanitari si parla per esempio della demenza del maltrattamento minorile degli anziani delle varie patologie della progettazione nei servizi sociosanitari è una questione con cui mi sono trovato a che fare che da una parte vedevo che i manuali anche delle migliori case editrici risultavano non aggiornati un po' qualunquisti se possiamo dire dall'altra la voce di Wikipedia a volte offriva uno spunto ma non era così completa allora ho cercato di mia iniziativa personale di coinvolgere degli esperti ho cominciato a scrivere decine e decine di mail per aggiornare la voce per esempio dedicata ad Usterla oppure a Venarius da ultimo e questo è un esempio che credo possa essere condiviso anche da voi per l'aggiornamento della voce dedicata alla lingua dei segni la lingua dei segni italiana ho scritto alla massima esperta italiana Virginia Volterra ora in pensione con lei ho avuto una lunga corrispondenza naturalmente io l'ho attirata sulla voce di Wikipedia in italiano perché ho detto io non posso non bypassare un riferimento comune della comunità diciamo italiana degli studenti quindi secondo me è il momento in cui giustamente anche il mondo dell'università deve essere sensibilizzato a quello che è l'approccio pop alla cultura perché tutti passano per Wikipedia solo che le risposte che ho ricevuto dagli studiosi vi posso citare per dirvi dei contatti ho avuto Virginia Volterra Vincenzo Costa che è uno dei massimi esperti di Usterla poi professore di filosofia della scienza vari alcuni mi hanno detto progetto interessante ma non abbiamo tempo di farlo altri hanno osservato che sarebbe stato troppo difficile aggiornare la voce metterci le mani pur dando la loro collaborazione da ultimo Virginia Volterra insieme ad Elena Tomassuolo autrice del libro per Ericsson la sordità infantile mi facevano notare e arrivo alla conclusione che la voce di Wikipedia sulla list secondo loro era proprio tutta da rifare allora mi hanno detto sarebbe più più facile scrivere una voce ex novo piuttosto che rimettersi a rifare quella voce arrivo a un ultimo punto quindi da una parte secondo me è imprescindibile l'aggancio svolge un'azione di influenza come influencer diciamo wikipediani sui esperti che ne sia uno due tre però è imprescindibile perché secondo me questo non possiamo secondo me certamente gli insegnanti volenterosi vanno considerati però a mio avviso è importante che ci sia un confronto con coloro che hanno una specializzazione nello stesso tempo secondo me e questo è quindi l'azione di di influenza secondo me quindi il wikipediano ora deve diventare come io nel mio piccolissimo ho cercato di fare una sorta di influencer attirare l'attenzione degli esperti su questo progetto e poi quindi raccoglio delle cose che Yolanda ha detto sulle modalità poi di magari anticipare un pdf poi lavorare nel back office nell'integrazione un'altra cosa ed è l'ultimo punto che io riscontro come insegnante è che tutti magari per comodità esibiscono un lavoro copiato eccetera però secondo me proprio perché il progetto magari si rivolge e tematizza il rapporto con la scuola italiana poi nella fase di bella copia la possiamo definire non possiamo non registrare questo passaggio perché a mio avviso vi sembrerò ingenuo però tutti attingono a wikipedia e quindi tutti in maniera consumistica se ne approcciano però poi di ritorno sono scettici e dicono ah vabbè sì so che potrebbe non essere quindi secondo me se si coinvolgono degli esperti bisognerebbe secondo me anche se questo forse contraddice i principi del sapere libero stabilire anche una un limite di accettibilità cioè un punto di non ritorno perché se la voce appunto diventa sempre non rivedibile sempre volevo dire sempre rivedibile si alimenta quel senso anche di scetticismo che c'è cioè noi dovremmo dare anche la sicurezza che chi attinge alla voce di wikipedia abbia anche la certezza che attinge ad una voce che ha un rating un ranking ecco non so questi sono i temi quindi li sintetizzo nelle parole coinvolgimento degli esperti assolutamente quindi azione di influenza sugli esperti a partire dalle voci che sono state privilegiate io potrei ecco come volontario ma ricontribuire su questo fronte le voci relative alle scienze umane secondo punto dare anche un riscontro all'esperto che abbia validato la voce non può vedersi l'esperto una volta che ha dato il suo contributo magari rivista la voce deve ecco queste sono le cose che mi ho contributo grazie Stefano volevo fare un intervento sulla questione degli esperti perché come chiedeva anche a Supercilum allora in realtà ci sono e anche in questo progetto farei la stessa cosa ci sono due tipi di coinvolgimenti degli esperti diversi da una parte vogliamo un comitato degli esperti che vuol dire semplicemente avere un gruppo di persone che seguono un po' il progetto persone con competenze diverse possono essere appunto wikipediani con esperienza nella scuola oppure persone che hanno invece esperienza nella didattica a distanza o persone un docente molto attivo che ha sostanzialmente vogliamo delle persone con delle opinioni perché ci servono perché danno un'occhiata a quello che stiamo facendo e ci aiutano anche un po' con il confronto a riorientare sistemare eccetera nel comitato degli esperti vorrei anche qualcuno che non sia soltanto italiano per vedere anche se questo progetto può essere replicabile in altri contesti quindi quello è semplicemente il nostro gruppo di riferimento con delle persone che non sono necessariamente attive nel progetto ma ogni tanto li mandiamo delle cose e ci danno un consiglio e ci aiutano anche a indirizzarlo se gli sembra che funziona questo è uno secondo gruppo degli esperti era quello che noi nel progetto in Sudafrica abbiamo coinvolto per la revisione delle voci che era un ruolo proprio specifico noi li chiamavamo reviewer in realtà e per essere un reviewer tu devi essere ovviamente un esperto in quell'ambito non abbiamo lavorato con dei docenti di scuola superiore ma con dei docenti universitari erano tutti docenti universitari nel nostro caso volevamo che per esempio la voce di Nelson Mandela fosse revisionata anche da un esperto sudafricano cioè volevamo fare attenzione che fosse bilanciata rispetto anche ad altri luoghi del mondo quindi nel nostro caso era orientato verso più anche un punto di vista o comunque un expertise che veniva il cosiddetto sarà un po' retorico quello di dire gli africani che valutino gli africani ma di fatto è anche un po' quello che se non ci sono bisogna anche un po' ingegnerizzare il coinvolgimento quindi in quel caso i reviewer avevano una competenza specialistica di solito viene riconosciuta comunque come un insegnamento universitario puoi essere un autore di libri però di solito questi sono un po' i parametri e a volte appunto abbiamo scelto dei ruoli perché ci interessava che coprissero magari degli aspetti che non sono attualmente coperti nel caso delle nostre voci io non lo farei sistematicamente su tutte le voci lo farei magari su alcune voci in cui vediamo che ci sono dei problemi nel caso delle voci del Sudafrica tante non c'erano tante erano proprio da sistemare da zero quindi erano magari problemi diversi io deciderei cosa fare sicuramente su voci legate al fascismo potrebbe aver senso fare comunque un tentativo capire se ha senso perché sono voci molto conflittuali nella comunità magari anche fare delle review esterne potrebbe aver senso dobbiamo siccome un po' valutare su quali contenuti vale la pena farlo resta il fatto che il bello del sapere di Wikipedia è che può sempre cambiare io sono un'antropologa con formazione per cui il fatto che le cose che ritenevamo giuste nell'Ottocento non lo sono più ricordiamoci perché sarà stata una meravigliosa la review fatta nell'Ottocento l'enciclopedia scritta dagli esperti ma adesso per fortuna non misuriamo più i crani della gente quindi ci sbagliamo il problema è anche che l'articolo perfetto di un esperto magari è sbagliato e il Wikipedia offre la possibilità comunque di cambiarlo poi comunque anche nel monitoraggio delle voci una voce che guadagna lo status di voce di qualità comunque può perdere lo status se ci sono delle modifiche significative per cui comunque è in evoluzione anche il sistema interno di Wikipedia per raccomandare delle voci per cui non è che viene comunque segnalato se ci sono dei problemi però sicuramente noi non vogliamo appunto lo dicevo all'inizio non vogliamo rompere il giocattolo Wikipedia resta col suo funzionamento che è il suo funzionamento sano cioè nel senso che ha un suo modo di operare un po' strambo ma che ha comunque un suo senso e anche una sua una sua logica interna per cui noi giochiamo con le sue regole e anche il contributo dato da altri poi può essere modificato scusate ci tenevo a dare questa questione sugli esperti perché appunto anche insomma spero che avremo un bel comitato degli esperti e poi la possibilità di coinvolgere i viewer sono concordo molto con quello che dice Yolanda nel senso che non bisogna cambiare Wikipedia ci mancherebbe tolta la fazienda di eventuale namespace minipedia sono d'accordo aggiungo che non necessariamente sono d'accordo lo so però credo che se c'è un obiettivo diciamolo così un lemma in matematica si direbbe un obiettivo secondario forse è che se riusciamo a coinvolgere un ragionevole numero tra insegnanti studenti esperti reviewer eccetera 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 potremmo sì guadagnare una percezione un po' diversa di Wikipedia soprattutto nella zona collegata in varia maniera penso anche alle stesse famiglie per dire nella zona collegata alle scuole primarie alle scuole medie questo sì cioè andiamo a dare probabilmente una lettura più corretta e forse più partecipata di un'enciclopedia che è corretta e partecipata soprattutto partecipata e che io comunque continuo a ritenere piena di un valore etico molto importante soprattutto per il futuro è vero che mi confronto con l'accademia la Treccani eccetera eccetera ma io credo molto nella partecipazione nella co-costruzione del sapere anche come metodo di apprendimento sì poi comunque bisogna avere almeno letto quella trentina di libri specialistici sull'argomento per riuscire a scrivere la voce però il problema è anche questo che non è evidente su certi argomenti se non abbiamo i contributori io vi ringrazio tantissimo anche per gli spunti questa questione dei reviewer in realtà abbiamo dei trucchi che abbiamo anche esplorato con Marta Pucciarelli quando abbiamo fatto il progetto in Sudafrica per esempio spiegare quante volte viene visitata la voce ai reviewer è stato efficientissimo quando gli dici guarda l'hanno vista un milione e mezzo di persone inizia ad essere che uno dice forse magari do un'occhiata perché in effetti è il mio tema quindi ci siamo accorti che anche questa cosa fare leva anche sulla visibilità di alcune voci è stato molto importante ed efficiente però appunto magari possiamo anche entrare poi nel merito di queste questioni anche in momenti successivi possiamo organizzare anche degli approfondimenti sul progetto molto volentieri anche per vedere anche le reti che possiamo coinvolgere poi tante persone che in realtà scrivono su Wikipedia sono degli accademici in realtà quindi tanti di noi hanno contatti con l'università sono collegati per cui magari può anche facilitare dei processi questo siamo ormai già alle 8.15 io sono nota per amare le riunioni che durano 50 minuti scusate perdonatemi se invece vi ho portato via più tempo del previsto spero che insomma questo sia un incontro insomma iniziale spero che vi scriviate alla pagina di Telegram adesso lo aggiungo nella descrizione del progetto siete benvenuti a contattarmi personalmente o a contattare altre persone del gruppo se avete voglia di partecipare faremo degli incontri dedicati magari uno appunto sulla questione della review e della valutazione delle voci che mi sembra comunque che è un tema complicato che ha tante sfaccettature ah scusate prego Sanita vedo adesso scusate prego vai Sanita ma concludi tu non mi permetterei mai di rubarti il finale c'è una cosa però che mi farebbe molto piacere soprattutto dateci una mano appunto nel recuperare i libri e una cosa che in particolare vorremmo sottolineare tutti soprattutto non necessariamente soltanto il nostro scopo è classico e scientifico ma sono anche gli altri istituti che hanno comunque diciamo una loro ragione di esistere e che solitamente nella società invece vengono messi un pochino da parte a noi interesserebbe soprattutto approfondire su questi argomenti qui soprattutto appunto non solo le scienze ma anche il diritto questioni di ingegneria eccetera eccetera che vengono insegnate nei tecnici negli istituti tecnici dove anche lì insomma ci potrebbe come wikipediani far piacere enormemente avere una mano perché abbiamo abbiamo bisogno come dire di vedere di rivedere un bel po' parecchie voci che sono la base sono soprattutto i concetti e su questo magari ecco potrebbe essere interessante coinvolgere anche altri istituti tutto qui Yolanda ridò la linea a te benissimo sì questa cosa stiamo ancora raccogliendo i testi per cui anche Stefano mi sa che ti ti ricontatto specificatamente per l'istituto e per l'indirizzo quello socio-sanitario di cui accennavi per chiederti magari aiuto anche a te perché sono magari dei testi che non sempre riusciamo a recuperare facilmente e vi ringrazio tutti e ci sentiamo allora via mail e poi vi comunichiamo penso nel giro di 10-15 giorni o un altro incontro sulla valutazione delle voci grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille